Iscriviti al canale! O Beucano! O uno di questi che rossi! Con la season 9 tolgono le quest... Penso le tolgano le quest... Ci sta che tolgano le quest... Non è giusto togliere le quest... Capitanaculo? Tanto io prendo il momio... Si, se no vi si che di essere un casino... Pa, 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 pa... I tuoi servitori hanno davvero dato... Beucano, Beucano! Beucano, Beucano! Dai, livello! Mi hai preso il pirata! Ah... Stai cercando di rientrare in top... 16 non te ne frega niente! Beh, certo che me ne frega! Me ne frega, me ne frega! Sto provando! Sto provando a dare del mio meglio... A fare del mio meglio, quello si! Sono leggermente in positivo oggi... Dopo dieci giorni che non giocavo... Quindi insomma... Direi che sono molto soddisfatto... Ho delle reclute fresche fresche per te! Ok... Allora... Per essere scialacquati... E quindi, boys... Scialacquate! 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 Oldo? Ma questo lo posso spiocare... Magari questo è elementale, ma... Che sta a fare? No tag! Hai buone possibilità di vincere! Che solo fagli due dannini in più a questo... Mi vale abbastanza la pena credo... Blocchiamoli! A che cosa? Vediamo se riesci a stare in testa... E... A che cosa? Vediamo se riesci a stare in testa... Soprattutto se non ne fiori C'è il modo migliore Eeeh, ti avrai fatto cairli Sono abbastanza convinto di ciò Ah, posso anche non te vai Non si abbatterà con onore Aiuto! Più grazie suon O più rumore fanno quando caso Vediamo se riesce a stare in testa alla classifica Pai pam pum Quanto stiamo? Due? Due di sette? Wuh! Allora Praticamente Oro sui denti! Oro nel cappello! Parasso che fanno? Praticamente Aiuto! Che l'ha fatto questo? Trafica rende perfetto Si livella solo quando avremo la quest Si livella solo quando avremo la quest Ecco swoop di positioning Sembra Praticamente quello potrebbe fare la differenza eccoci qua un danino a tutto mi piace le gemme ah io ce le vorrei niente un paio va bene giocare a tempo mi piace in realtà sono questo che scala avrei potuto toldare che avrei vinto uguale però sono anche soddisfatto dai i tuoi servitori hanno davvero dato tutto faccio compiare tutte e due uno due tre quattro cinque sei forse è meglio con penne uno e ciccia blocchiamo blocchiamo i tuoi lega più 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 sempre meglio avrei qualche servitore da giocare I bambini Se mi ricordo magari di usare l'HP è importante Lui c'è il bannotto dei Diabot Siamo dei Diabot giganteschi alla sinistra Non alla sinistra Qui Nooo Va bene Molina Molina Farò ciò che posso Oro sui denti, oro nel cappello Anche a me non piaceva Eccoti una moneta per il disco Mi piace il tuo modo di pensare Eeeh Insomma Eeeh Stavo pensando che fossero meglio due penuti E mi sono fatto un po' Indolosire Molto bene, molto bene Molto bene, molto bene E' che questo collezionista interessante ma A me serve assolutamente un Diabot A me serve assolutamente un Diabot E' che dobbiamo fare? E' che dobbiamo fare? E' che dobbiamo fare? Tutto su Johnny lì No? E li ho visti nuovi pezzi di BG E sono interessanti ma vanno visti nel complesso E' difficile capire Eeeh Cioè Però... Però sono interessanti E' la vittoria in pugno Sei in prima posizione E' in prima posizione E' in prima posizione E insomma Cioè Diabottalo Ehh vabbè Buonien' ya Tutto libero ragazzi Ok Bongo Mi da due gem Anche io avrei scelto quello Ti stanno puntando tutti Fa' attenzione Eh quello che è in due favore Eh proprio ciò di cui avevo paolo E ok ok boy Buonissimo 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 Lui vince la partita eh Vuoi dire che vince la lobby Ha tutto triplo Devi a botta I soldi sono fatti per essere Allora lui deve entrare Lui potrebbe uscire Anche lui dovrebbe uscire Questa è un discreto scioppo Questo è un discreto scioppo Qua è la questione Non so se voglio mettere lei E se fai zai qua anche Perché questi non sono male E se fai zai qua anche Che pepe è buono Che pepe è buono Ma dai Al pilo eh Ok Lui spero non incontri Ma lui spero non incontri il Marta Non dovrebbe aver incontrato il Marta È Marta Come sarebbe successo Ok Va bene Che pepe è mezzo bello Un servitore in meno Una moneta Dory È vero È vero Ah! Devi togliere le statistiche da qui e mettere sul clima Va bene Oh mio dio Oh! Aspetta bene Tra lì, tra lì, tra lì Tra lì, tra lì, tra lì Eh, ehm Eh, ok, ok Va bene C'è una giga patch Punto scontativo News Lloyd Byron Eeeh, c'è una patch gigante in arrivo Obv, mi tocca lui E questo lo sapevamo La bestia di Satana Se voglio lui Fai un altro pezzo che ossa Potrebbe essere figo Lui Come si prendono in teambi C'è un bel gem C'è un bel gem Un servitore in meno Una moneta C'è un bel gem C'è un bel gem Bella scelta Molto pratica Sotterriamo le ossa Perse dei ricordi Go, go, go Nooo Che cazzo ho fatto Nooo Nooo Volevo fare Nooo Volevo farlo su di lui Nooo 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 Sono il più grosso quaggione Nella storia di questo gioco Nooo 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 Ehi Dave che mi serve lo spostagene Maledizione Ehi, questo è il postoletto! Oro sui denti, oro nel cappello! Non metterò Il teonfiaspina Faffanculo Il teonfiaspina Il teonfiaspina Poi coccani Poi coccani Ok Non siete simpatici Ce ne ancora uno Sotterriamo le ossa Vediamo se Basta E' una bella cosa Io sto doppiato Quello lì E' fatto E' fatto E' fatto E' fatto E' fatto Dai E' fatto Vince Tutto calcolato Tutto calcolato Ragazzi Partita clean Lì C'è Di in un Grazie a tutti.